ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su ufactory un gioco presente su steam da aprile di quest'anno ed è attualmente in early access costa come un big mac 8 euro e 19 ed è veramente molto interessante benché così a prima vista non sembra introdurre nulla di nuovo dal factory town dal factorio insomma da production line quei giochi sulla costruzione di catene di montaggio questo devo dire che è un pochino più particolare beh prima di tutto prima di iniziare il gioco volevo comunicarvi che qua sotto adesso nei prossimi video dovreste trovare anche un link nei commenti nella descrizione della pagina curatore di indie gameplay ita perché questo gioco io ho scritto agli sviluppatori gli ho detto guardate io mi occupo di far conoscere i giochi in italia vi interessa loro mi hanno detto guarda non abbiamo codici però se tu hai una pagina curatore te lo facciamo vedere io ho fatto la pagina curatore e il gioco mi è arrivato e dovrò farci una recensione per steam che cos'è la pagina curatore beh può essere utile perché se vi scrivete io a me non cambia nulla nel senso che mi fa piacere però finisce lì ma voi avrete nella pagina principale del negozio non so se li usate già vedete gli altri se no vedrete tutte le recensioni che ho rilasciato io insomma con video senza video insomma però vedrete una cosa molto sintetica io in genere uso un aggettivo e poi una piccola descrizione di quello che è il gioco quindi se vi interessa vedere le ultime novità pubblicate da me magari con un piccolo commento testuale iscrivetevi alla pagina curatore indie gameplay ita lo trovate comunque andando su negozio e poi c'è la pagina curatore in cui potete cercarmi comunque c'è il link qua sotto qualora usiate steam anche da browser che cos'è ufactory? ufactory ha un complesso sistema di tutorial che ci insegna a giocare tutte le varie sfaccettature del gioco infatti quello che andremo a fare è maneggiare materiali produzioni e anche liquidi perché infatti hanno aggiunto da poco la brewery praticamente la diciamo la produzione di birra in pratica con tutti i suoi procedimenti è molto figo molto figo perché vi faccio vedere un tutorial poi vabbè il gioco a sette scenari un sacco di cose un sacco di macchinari e la particolarità che lo distingue un pochino da altri giochi è la possibilità di configurare il ogni macchinaio ogni singolo macchinaio esempio qua abbiamo una macchina che produce dei dadi per bambini praticamente toy block non colorati e in pratica che cosa succede? arrivano da alcune porte segnate in verde in questo caso vedete nel suo ruoto vengono prodotti su due lati questi cubi questi cubi vengono mandati alla macchina la macchina li introduce gli fa una lavorazione completa che consiste in vari passaggi e il gioco ci suggerisce che è una cosa che a me onestamente non è venuta in mente la prima volta che ho giocato di ottimizzare del 600 per cento la produzione che cosa si fa si va nel menu qui vedete che abbiamo il braccio meccanico gli si dice di portare di là ne faccio no no ho fatto una cavolata adesso distruggiamo tutto e vi faccio vedere di costruire uno di quei banchi da lavoro in pratica che sembrano delle stampanti 3d vedete che ne produco sei a questo punto vado a lavorare con i bracci meccanici come avevamo fatto prima quindi gli dico di prendere portare lì prendere portare lì vedete che c'è una direzione quindi in questo caso non avremmo ottimizzato la produzione perché invece che arriva qua in fondo prendere e andare di là lo prendiamo da ogni quadrato di questo rullo trasportatore vedete che se clicco sulla produzione laser vediamo i tempi vedete i tempi continuano a cambiare che cosa sta facendo se ha bisogno di interazione dell'utente se sta andando se sta si sta rifornendo se sta aspettando materiali in uscita in entrata insomma vediamo quanto una macchina è ottimizzata in questo caso se noi premiamo su uno dei cubi come ci dice il tutorial vediamo che questo blocco deve essere lavorato in ben sei passaggi diversi e quindi in questo caso la il tutorial ci dice di andare a ottimizzare ulteriormente la catena di produzione perché ci dice di costruire un braccio meccanico ve lo faccio vedere poi magari proviamo anche una partita normale col tasto centrale del mouse si va a ruotare io ho qualche problemino col tasto destro comunque in pratica adesso seguiamo quello che ci sta dicendo così vi faccio vedere in che cosa consiste il questa particolare produzione in questo caso noi andremo a piazzare adesso tanti di questi laser cutter quanti ci dice il tutorial e andremo a fare una lavorazione per ogni singolo tavolo da lavoro quindi in pratica vedete possiamo andare a dirgli di fare un passaggio solo anziché tutti allora adesso il gioco ci sta dicendo che c'è qualcosa che non va perché vedete che qua abbiamo la vecchia produzione e qua possiamo dirgli di filtrare le risorse anche qui vedete possiamo dirgli di andare a prendere altre cose no valid input arma non gli piace non piace allora allora do capire il perché non funziona questo gioco in pausa vedete che qua abbiamo tutto tutta la lavorazione della stanza precedente però al momento anche qui effettivamente dice non ok ok non stavano lavorando dall'altra parte è possibile vabbè non è qua che dobbiamo lavorare alla fine perché bisogna lavorare da questa parte allora ho montato vuoi dire ho montato il braccio al contrario non è possibile è giusto ok perché poi ha tutto un costo la particolarità che potete notare adesso è che cliccando sul manuale abbiamo un quaderno scritto con tutti i procedimenti in pratica il tutorial ci dice se devi produrre il ferro vai a vedere infatti vado su solidi il ferro e mi dà tutto il grafico diciamo di quello che devo fare per la produzione esporta 20 ampai ten blocks 0 per cento ok no non ho ben capito perché non funziona però non funziona però perché non gli arrivano no ok 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 capito capito ho sbagliato sbagliato perché tecnicamente non dovrebbe supportare l'accesso infatti mi è sfuggita questa cosa che in pratica devo dargli la giusta direzione ok perfetto abbiamo risolto adesso andiamo a fare quello che vi avevo detto in pratica andiamo a a fare il top face perfetto poi a ognuno diamo uno step differente ok la quarta credo così sì così la quinta e così vediamo se andiamo effettivamente a ottimizzare la produzione allora gran lavoro ha migliorato l'efficienza più del mille per cento dici vedete che qua poi vedete quanto va a cambiare waiting for output ok in pratica vedete che ogni oggetto dovete dirgli che cosa può fare cosa non può fare in questo caso questo braccio qui è ancora fermo perché non ha nulla da riconoscere in questo caso è arrivato e vedete che qui adesso qua sta funzionando tutto quindi dovrebbe già essere no ok quello che un braccio può o non può raccogliere lo potete vedere solo una volta che gli arriva davanti quindi bisogna perdere un attimino tempo in questo vedete che adesso ogni prodotto finito che consegna arriva lì abbiamo un obiettivo spesso avremo del tempo questa barra gialla che sale il limite qua il tempo che scorre poi possiamo accelerare o meno il tempo vedete che intanto fanno dei movimenti abbastanza scattosi però insomma abbiamo completato il tutorial con un a più quello che poi possiamo andare a fare sono anche altre cose però abbiamo dei tutorial non ancora disponibili quindi vi faccio vedere come funziona magari uno scenario base let's child's play dovrebbe essere un scenario bambini quindi insomma niente di complicato però si vanno a trattare varie tematiche in questo caso abbiamo prodotto dei giocattoli per bambini precedentemente ho iniziato il tutorial separando delle palline da un colore all'altro attenzione qua ci sta spiegando che cos'è a qua si producono ancora giocattoli ok si parte dal wood log quindi il pezzo di legno si passa dalla segheria quindi la segheria taglierà in cubi e il laser cutter creerà le sei facce del cubo e a questo punto andremo a colorare il giocattolo e a pittura si appunto averlo pitturato ovviamente qua ci dice dovrà avere anche le diciamo le le tanniche di di colore allora iniziamo e vediamo allora qua abbiamo l'uscita dovrà sempre considerare che ogni rullo a due uscite due diciamo linee allora in questo caso qua che cacchio produce aspettiamo un attimo ok allora iniziamo ingegnarci qua esce che cos'è can of paint e ho capito ma è un progetto finale quindi e lo pitturiamo alla fine non lo pitturiamo prima perché butta in via colore quindi in questo caso noi adesso allunghiamo un simple conveyor allora vedete che qua avanzano vi faccio vedere che cosa si può fare questi sono tutte le direzioni qua invece sono quelli un po più elaborati in cui possiamo andare a separare e splittare oppure da una linea singola creare la doppia un filtro quindi mandare da una parte o dall'altra un filtro può essere necessario nel caso in cui magari avessimo l'esigenza di mischiare la roba per velocizzare un pochino la la catena di montaggio e poi possiamo andare a fare anche questo che sono delle sorte di passaggi in cui far passare sopra altri rulli in pratica andare a ottimizzare lo spazio quindi questo caso qua ci sono le macchine fisiche in cui si va a lavorare quindi c'è una small sawmill qui entra allora in questo caso io devo separare quindi in pratica vado a creare un bivio come lo faccio come lo faccio così allora in pratica io dico a vedete cliccando qui esce lo schema adesso scusate di splitter no questo lo fa arbitrariamente no volevo qualcosa di un po' più elaborato ok infatti è questo ok volevo farvelo vedere però in realtà potrebbe andare bene anche questo però volevo farvi vedere una cosa un po' più avanzata allora vedete che in questo caso io dico a premendo su questo quello che c'è a sinistra deve andare assolutamente avanti quello che invece c'è a destra deve girare a destra infatti cambia la freccia qua sotto quindi praticamente andiamo a separare i due blocchi in questo caso ho sbagliato perché tac vorrei fare una cosa di questo tipo quello che adesso arriva qui così magari riusciamo anche a farlo più più bello quello che arriva dritto qui no perché questo è una separazione eh sì vabbè potrei farvelo vedere lo stesso però questo è un filtro no facciamolo così anche se non serve a niente praticamente questo ce lo splitterà magari ci velocizza la cosa non lo so comunque prendiamoci adesso un braccio meccanico il braccio meccanico porterà la merce alla lavorazione quindi al taglio alla sawmill che avevamo messo prima adesso continuo a sbagliare sawmill la sawmill cliccandoci qui dobbiamo produrre non assi non pannelli per sgabelli non pencil ma toy block tecnicamente toy block è quello che dobbiamo produrre ok avviamo il processo anche se non abbiamo ancora materiali validi a questo punto loro producono il cubo quindi prodotto il cubo ci serve un altro braccio meccanico che porti la roba su un rullo allora no non volevo aprire il manuale mi chiedo scusa se io clicco sbagliato poi allora mentre invece vorrei produrre la vernice quindi la vernice la porto di qua e poi ci pensiamo più tardi dobbiamo fare attenzione ai soldi anche se in realtà abbiamo una fucilata vediamo intanto se la produzione è giusta io qua gli dico input vedete che non vedo ancora il materiale e nemmeno qui quindi vado e allora qua devo dirgli il permesso così porta di là il legname che viene tagliato qua ah qua li divide ok in pratica ok sta tagliando ci metterà un po' e infatti vedete che il tempo è ci metterà un po' waiting for input e poi sta andando attivamente ma non è ancora finito qua eh stiamo sbagliando qualcosa 4 secondi 3 secondi 2 secondi 1 secondo 0 secondi ah no minchia johnny ci mette 30 secondi vabbè adesso l'ho sbloccato vedete ci mette 30 secondi per fare il cubo però ne ha fatti un po' va bene ok finora la produzione va bene quindi in questo caso iniziamo con la lavorazione dei cubi allora in pratica prendiamo provo a non configurare il braccio così almeno magari me lo prendi in automatico senza doverli cliccare tutti allora iniziamo con non so se funziona in questa direzione ma non credo perché va solo dritto quindi non lo so vediamo adesso intanto dovremmo fare un po' di queste cose laser cutter ha l'ingresso lì poi facciamo un'altra vediamo se funziona in questa direzione qui così 1 2 3 4 5 6 perfetto diamo un'occhiata se funziona seguiamo quello che ci aveva detto il tutorial prima quindi prendiamo il braccio qui il braccio qui il braccio qui il braccio qui e poi un braccio qui che ci porta al prodotto finito iniziamo allora devi fare il primo step qui mi fai il secondo qui mi fai il terzo qui mi fai il quarto qui mi fai il quinto e qui mi fai il sesto poi poi tecnicamente dovrebbe aver finito e la roba che dobbiamo consegnare è la quindi prendiamo il rullo di nuovo dritto dritto e poi andiamo a pitturarlo per la pittura vedete che c'è l'ingresso qui vedete che c'è l'ingresso qui però servirà che gli arrivi anche della vernice quindi in questo caso io dico al beh adesso vediamo perché io sto portando vernice qua sulla sinistra quindi facciamo una cosa così allunghiamo un po' così tanto si può fare anche così elimino questo spero il gioco vi piaccia perché è veramente interessante il tutorial veramente di solito il tutorial su queste cose un po' complicate magari in inglese mi pesa sempre un po' ma in realtà mi ha divertito ho fatto una cavolata enorme immensa allora intanto prendiamo questo vai di là adesso prendiamo il rullo in pratica lui consegnerà soltanto da un lato dall'altro lato arriva il cubo dall'altro lato arriva il la la latta di di pittura latta di pittura che poi viene consegnata qui nello spray credo eh poi vedete che qua invece abbiamo la gestione dei liquidi quindi qua abbiamo la gestione solida e qua abbiamo la gestione liquida io non vorrei che no ok fortunatamente non possiamo fare nulla perché nelle fasi più avanzate dovremmo che fare con liquidi dovremmo fare ingressi e uscite di liquidi intanto vediamo se funziona lui sta lavorando c'è qualcosa che non va qua non capisco se sta lavorando o no se c'è qualche problema no valid output arm eh sì infatti 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 c'è una cosa che non mi torna infatti infatti non è valido questo mannaggia per non rifare tutto come posso fare no va solo dritto mannaggia te no voglio risolvere la cosa voglio risolvere la cosa senza fare troppi danni ok perché il prodotto viene portato fuori lì e dovrei fare tutto me ne dovrei pazienza rifaremo tutto eh sì non c'è modo altrimenti di eh porti la roba qui vediamo se funziona così ma dubito no funziona funziona così funziona no no invalid input arm no ho sbagliato ho sbagliato ho cannato proprio di brutto in questo caso no ho già trovato la soluzione perché facciamo così spostiamo tutto qui dopo aver lavorato il blocco lo buttiamo già direttamente in una delle macchine mi spiace aver perso tempo ma è molto carino il fatto di poter comunque provare e sperimentare insieme allora questo è il braccio che porta un rullo però siamo appunto a capo quindi il rullo fa un giro così no chissà se funziona un rullo è un giro assurdo ma lo dobbiamo fare così così e poi così e qua un altro braccio che invece lo porta direttamente di là facciamo funzioni quanto ci mette qua a produrre? 4 secondi 3 secondi 2 secondi 1 secondo finito adesso sta ritooling assembling filter ok ok qua è fermo ok era vietato ok ok la lavorazione la lavorazione la lavorazione di questo blocco qui era solo il primo passo perché poi qua si fa il secondo ok vediamo ok qua funziona devo dire credo perché sta caricando stanno già lavorando stanno producendo qualcosa mannaggia a me che non ho pensato alla fine della produzione qua qua un altro rulli come se non ci fosse un domani infatti me lo porti lì io lo porto dritto dritto di qua facciamo un giro un giro un giro di là e poi un altro di quelli dritti allora teoricamente dovremmo aver finito la catena di produzione vediamo adesso se ce la facciamo dobbiamo produrne 100 ora non capisco se sta pitturando tutto cioè eh sì guardate sta sta producendo tutti i blocchi cioè sta pitturando tutti i blocchi io adesso voglio dire a questo maledetto cosa qua di farlo solo vicino e non lontano perché se no qua è un bel problema eh infatti mi sta dando problemi di produzione quindi adesso non mi permette ai cubi di arrivare quindi tu però me lo devi fare ok perfetto così adesso lui appoggerà soltanto le latte solo da questo lato qui invece eh i tavoli stanno tutti lavorando abbastanza in modo efficiente vediamo se ce la facciamo qua stanno lavorando vanno avanti vedete che qua hanno già depositato un blocco adesso io devo andare qui e dirgli eh porta quello che trovi eh cioè questo e questo all'interno della macchina probabilmente lo porterà una volta che avrà finito di lavorare e tu invece devi portare i blocchi colorati direttamente la voglio vedere soprattutto capire quanti secondi ci mette cinque secondi dai non non so poi se a fare tutti i processi o meno però intanto il tempo sta passando quindi dobbiamo produrne cento probabilmente ok no qualcosina stiamo producendo ah no sono un esporta cento unpainting blocks ok no sono un croness perché non devo pitturarli però io nella smania di farvi vedere come funziona il gioco l'ho fatto va bene pazienza allora tac tac unpainted io ero già allo step successivo va bene va bene va bene allora facciamo così ehm facciamo che tu demolisci questo ehm la curva è questa perfetto tu non servi più tu neanche perché non voglio consegnare roba sbagliata ok e finiamola qui quindi niente niente magari ci sarà qualche altra stanza per andando lontano così si vede tutto il il circolo della in simboli di quello che è la la produzione infatti adesso stiamo producendo i giocattoli giusti non pitturati ok ok ci ha semplicemente spiegato come produrre e poi probabilmente ce lo farà fare la prossima stagione prossima prossimo episodio non lo so però intanto possiamo andare a vedere ehm se prendiamo su un tavolo se sta andando bene la produzione direi che per tre quarti siamo praticamente attivi se si potrebbe ottimizzare questa cosa perché mhm boh forse un decimo del tempo lo perde ad aspettare che arrivi dallo step successivo ehm precedente scusate anche questo si stessa cosa proprio lento questo potrei pensare magari di fare più stazioni per tagliare più più cose più blocchi e per mandarli che cosa fa questo in pratica lui prende e li divide fosse invece una cosa un po' più lunga metterebbe uno qui uno qui uno qui cioè a zig zag insomma per permettere magari di ottimizzare se uno ha dei dei bracci su entrambi i lati e vuole ottimizzare siamo al 55% 56 non stiamo facendo proprio una gran figura qua vedete gli obiettivi abbiamo ah questi erano gli opzionali quindi possiamo tentare anche di fare gli opzionali appunto quelli colorati consegnarne un centenario noi abbiamo fatto il 3% si 3 su 100 si e no potremmo eh si poi dobbiamo esportarne anche 10 quindi iniziamo con questi e poi eh e poi esportiamo anche i blocchi restanti ok esporta 100 blocchi non colorati e poi iniziamo a lavorare intanto vedete il blocco che va ok 91 adesso iniziamo a progettare i blocchi mancanti quindi adesso appena finiamo 94% poi guadagniamo soldi ogni volta che consegniamo un cubo 99% ok adesso dobbiamo fare quelli colorati allora cambio di produzione non ho ancora di mistichezza perché non li ho ancora più che altro con interruttori e quindi allora facciamo così allora adesso braccio meccanico allora braccio meccanico che prende devo girarlo nella direzione giusta prende porta lì poi braccio meccanico che prende e butta nella macchina per colorare braccio meccanico che porta tutto fuori ok allora il gioco è senz'altro carino scusa caricarmi tutti a sinistra questi mi ricarichi beh ok 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 produci ok ok allora il gioco dicevo non è originale per il concetto in sé per la personalizzazione di ogni singolo macchinario non so se ce ne sono oltre 40 di macchinari è senz'altro unico quindi il gioco merita secondo me costa uno sputo 8 euro e 19 è un affarone ricorda molto production line più che factorio però è veramente figo perché fa fare cose di tutti i giorni e e aiuta a tenere sveglia la mente questa è una cosa molto importante e infatti mi piace per questo perché comunque ti da dinamismo mi piace il fatto di eh star lì all'inizio pensare come ottimizzare come stendere diciamo la tutta la la struttura della produzione quindi spero di avervi fatto cosa gradita ad avervi portato questo titolo che ovviamente costa poco non è in italiano è vero ma c'è il tutorial da leggere è vero però minimo di impegno bisogna comunque mettercelo nelle cose allora adesso finiamo di colorare questo cubo ormai abbiamo finito perché siamo al 90% a breve consegneremo l'ultimo infatti vedete il cubo colorato che va carino bello non so cosa ci faranno con tutti sti cubi bambini però ne abbiamo prodotti per un esercito molto bene adesso abbiamo un obiettivo vabbè rimangono 18 ore possiamo tentare di superare gli obiettivi opzionali perché non so se vabbè intanto per completare qua abbiamo la demolizione qua la costruzione abbiamo visto i tool che abbiamo abbiamo il movimento per spostare le cose abbiamo la rotazione abbiamo la duplicazione possiamo andare a duplicare gli oggetti e avrei voluto farvi vedere più cose ma intanto mentre produce tutto tanto mancano 18 ore vi faccio vedere vedete quello che abbiamo l'ossigeno l'idrogeno il nitrogeno e un sacco di cose quindi maneggeremo un po' l'oxigeno i liquidi quindi la pittura la colla l'acqua abbiamo un sacco di cose da fare e abbiamo l'abc che sono ok quello che stiamo facendo adesso e abbiamo l'import export quindi wooden eblock dollar bills la birra con tutto il procedimento per produrre la birra è veramente figo tutti questi disegnini qua fatti per far bollire insomma e diventa anche bello complicatino alla fine quindi adesso attendiamo la fine del del livello e vediamo la valutazione che ci danno tra l'altro adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa dato che manca ancora un po' qua abbiamo la guida dove ci spiega tutto quello che possiamo fare addirittura c'è una missione in cui bisognava produrre degli ingotti di ferro e metterli in una scatola e quindi c'è il caricatore che mette tutto all'interno e poi il conveyor che porta invece tutto solo le scatole temperature per la pressione la camera ad alta pressione abbiamo l'alterazione della fisica quindi trapani pressatori di metallo il crimper che non so cosa sia come scolpire il legno in bacchetti diciamo è figo è figo è figo davvero ok mancano pochissimi minuti come vedete qui mancano 30 minuti 24 minuti 18 minuti ovviamente deve essere nostra cura completare ogni livello con il maggior numero di stelline ne abbiamo prese 2 soltanto su 5 perché se avessimo voluto produrre 250 cubi colorati avremmo dovuto fare una una struttura molto più bella insomma quindi allora voglio possiamo continuare a giocare tornare al menu principale vedete che poi se torniamo qua possiamo andare al allo scenario dopo quindi in questo caso diventeranno sempre più complicati infatti qua abbiamo la produzione di birra il gioco è beh come dicevo in early access quindi vi potrete trovare prossimamente altre cose altri scenari vedete qua la bottiglia vuota il tappo l'etichetta il pacchetto assemblare un pacco da sei quindi qua abbiamo praticamente la produzione di un pacco da sei di birra con la birra già presente già esistente quindi in pratica qua vedete che con questo potremmo andare nel verde a mettere una liquid pipe per connettere probabilmente quello che troveremo qui è l'imbottigliatore in pratica l'assembler il loading water machine il bottle filler quindi questo mette collegando che poi adesso ho fatto la cavolata no l'ho collegato giusto involontariamente quindi la birra arriva qui e viene buttato tutto nella bottiglia e poi viene chiusa con il tappo da quest'altra macchina che dovrebbe essere quello che mette il tappo il tappo l'etichetta insomma e poi consegniamo il da qua arrivano le bottiglie vuote no qua arrivano le bottiglie no arrivano allora da qua arrivano le il pacco da sei vuoto e le etichette mentre da qui arriva le bottiglie di birra e i tappi quindi spazio alla vostra fantasia per creare una catena di produzione efficiente per consegnare il pacco da sei di birra pieno detto questo questo era Ufactory fatemi sapere che cosa ne pensate mi è piaciuto veramente un casino quindi fatemi sapere 8,19€ ottimo prezzo ricordatevi qua sotto alla pagina del curatore Stim se vi va iscrivetevi così avrete sempre sott'occhio su Stim le recensioni di Galascio e alla prossima ragazzi e ciao ciao